Ciao ragazzi, ho saputo che siete stati grandiosi, che avete continuato ad allenarvi in questo periodo complicato per tutti e quindi siete stati proprio bravi perché avete avuto la capacità di adattarvi ad una situazione molto molto particolare. Io vi faccio un grande in bocca al lupo, certa del fatto che tutti vi siate preparati alla grande per questi smart games e soprattutto vi auguro di divertirvi un mondo. Un abbraccio grande, ciao ragazzi!